Ditemi voi ragazzi quanto è bella da 1 a 10 la casa di Marci nuova di pacca che le ho fatto Che metto in cuore tutti quanti i commenti qua sotto in descrizione E superiamo i 7.000 mi piace per questo nuovo video della vita in città Ragazzi bentornati a questo nuovo video della vita in città Oggi vi chiedo di superare come sempre 6.000 mi piace Ma devo dirvi una cosa prima di iniziare di per sé il vero e proprio episodio Saluto Giorgia, Domenico e Fede Mary Scrivete nei commenti hashtag minecraft di dover essere salutati nel mio video Iscrivetevi al canale e cerchiamo di superare i 7.000 mi piace per un nuovo video della vita in città E ragazzi vi annuncio che in descrizione c'è il link del mio nuovo secondo canale Iscrivetevi perché saluterò 10 nuovi iscritti Prima di questo video in realtà avevo già registrato un video della vita in città Che sarebbe appunto dovuto uscire oggi Il problema è che quella registrazione si è compromessa all'interno del mio computer Si è danneggiata e purtroppo quel file non posso più riutilizzarlo Quindi purtroppo devo farvi vedere cosa ho costruito in questo episodio Perché mi è stato consegnato questo libro da parte del nostro amico sindaco Sono il sindaco Sid Oggi ho un nuovo lavoro per te Molto faticoso Dovrei migliorare completamente tutta quanta la città Nella chest vicino a te troverai 400 euro per questo nuovo lavoro Ragazzi 400 euro Io appunto nello scorso episodio già li avevo presi In realtà io avevo registrato due episodi di fila E purtroppo sono stati danneggiati dal mio computer Quindi maledetto il mio cavolo di computer che mi deve sempre dar fastidio Però ragazzi vi mostro cosa è successo nel primo episodio Quello che appunto sarebbe dovuto uscire oggi E non vi spoilerò quello che comunque uscirà il giorno appunto della prossima uscita della vita in città Quindi tecnicamente di sabato prossimo se non sbaglio Comunque ragazzi oggi appunto il sindaco mi aveva chiesto di migliorare la città E in più a fine di questo episodio cioè dopo che vi mostro tutta quanta la città e i lavori Farò un lavoro che mi ha chiesto Marci e che mi ha commissionato a 1000 euro Sono tantissimi Quindi quello lo costruiremo assieme Ora vi mostro cosa ho fatto in vita in città oggi Appunto per migliorare la città Poi ragazzi nel prossimo momento dei prossimi giorni vedrete i vari miglioramenti Comunque ho aggiunto dei cespugli e delle panchine, delle fence, dei wall Qua e là in giro per la città Perché purtroppo questa neve mi dà molto fastidio a costruire Quindi non riesco a capire bene le varie distanze Vedete è un colore molto fastidioso quello della neve Infatti la neve tra un pochino dovrebbe sciogliersi in vita in città Dopo aver aggiunto queste panchine ragazzi ho pensato che era molto carino aggiungere dei cespugli qua e là in giro per il mio mondo Quindi pensavo che mettere in vita in città vari cespugli sarebbe una cosa molto molto carina E questi qua saranno i lampioni che saranno riproposti in giro per la città Ho comprato del ferro da marci, ho craftato delle barre che sono queste qua si fanno molto semplicemente col ferro Basta che le craftate e poi le mettete intorno al legno e si fa un bel lampione con la glowstone Questa ragazzi tre pezzi se non sbaglio costano cinque, no, tre pezzi costano venti se non sbaglio Da marci e avrò speso una roba come quasi ottanta euro soltanto di materiale di glowstone da marci per fare i lampioni in giro per la città Allora qua ho messo delle altre panchine, qua ne ho messa un'altra se non sbaglio qua c'è la chest con ok il ferro, la cobblestone, qua c'è la my crafting table E di qua ho messo un'altra panchina, di qua ho messo un'altra panchina con il cespuglio e piano piano migliora tutto Ma qua ragazzi c'è il pezzo forte, qua voglio strutturare una fontana veramente molto ma molto bella Al centro ragazzi a parte questa mucca gigantesca è un toro una mucca E' un toro! No 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 fermi! Dicevo comunque dopo che il toro ha provato ad attaccarmi adesso io sono armato con la mia bellissima ascia Questa qui sarà la fontana della nostra città Però al centro pensavo che non sapevo bene cosa metterci, pensavo Ragazzi ditemi voi qua sotto nei commenti cosa vorreste vedere nel centro della fontana della città Io pensavo a un albero grande come in quel modo che era gigantesco qua in mezzo E anche se le ferie la pensano come me secondo me perché anche loro piacciono gli alberi che ci sono qua in giro Quindi pensavo a un bel alberone qua al centro con la fontana d'acqua e tutto quanto attorno Poi qua c'è tutto quanto questa cosa qua di slab di quarzo Qua ci sono queste panchine che vorrei migliorare mettendo dei cartelli E poi fare tante stradine quando la neve se ne andrà E poi aggiungere vari cespugli e tutte quante queste cose in giro appunto Poi volevo appunto mettere anche delle strade, delle fence, dei wall Ma purtroppo la neve mi blocca perché non capisco bene come sta il wall qua in mezzo al nulla E' una cosa molto difficile da fare Però ragazzi questo è il succo del discorso di quell'episodio che purtroppo è andato perso nel mio computer L'altro episodio invece è un velo spoiler Ma c'entra molto la mia zona Vedete che là c'è un cubo verde ragazzi Semplicemente prima lì Cioè praticamente nel prossimo episodio ci sarà una costruzione qui Chi indovinerà cosa ci sarà qua e chi la costruirà soprattutto Prenderà un bel cuore qua sotto nei miei commenti Quindi mi raccomando sbizzarritevi però ora c'è da andare da Marci perché ragazzi lui mi ha commissionato un lavoro da mille euro E cos'è questo lavoro da mille euro? Semplicemente lui ha ottenuto un sacco di soldi però non vi dico perché Così dovete vedere il suo episodio E allora ho detto vabbè mi faccio pagare un sacco da Marci E lui vuole che io gli modifichi la casa E gliel'ampli Si dice tecnicamente così Verso questo lato E anche la stessa cosa fare un'ala di questa casa anche di qua Ci occuperemo della casa del buon Marci Anzi provo a vedere se mi ascolta in qualche modo Allora Marci ci sei? Mi senti adesso? Sì sono qua Allora lo sai cosa è successo purtroppo mio computer ha danneggiato i file che abbiamo fatto assieme prima No veramente? Sì quindi aiutami tu a spiegare perché mi hai fatto pagare Cioè mi hai dato mille per stemare l'ala qua della casa Cioè mi hai detto di stemare Allora ragazzi Marco siccome aveva visto che purtroppo non l'ha registrato Merlino Mi ha fatto un piccolo regalino ma non vi posso Piccolo? Piccolissimo ragazzi guardate Mi ha chiesto un sacco di soldi per fare quello che voglio fare E quindi gli ho detto senti io ti do mille mille villaggeuro Però tu mi devi fare qualcosa di veramente bello Va bene Quindi adesso spiegheremo ai fan che cosa mi devi fare Allora io più o meno ho già spiegato cosa devo fare Quindi devo fare una zona Dovami vedere quanto grande bravo perché non te l'ho chiesto quanto grande Allora questa sarà il continuo della casa perché voglio che sia un pochino più grande Ok Da questa parte pure Guardate mi sono dato la terra apposta Ecco già non è simmetrico perché in realtà ne hai fatto larga due di qua Perfetto e poi cosa devo fare? Una stanza che esce da qui Ok Che fa tipo così non lo so Cioè magari non farla solo di uno corridoio Quanto grande la vuoi cavolo questa casa? Ti sto pagando mille euro Vabbè vai dimmi Qui c'è il corridoietto e qua c'è una piccola stanza pure Facciamo non tanto grande No è piccolina sì Piccolissima Infatti questo non è grandissimo C'è questa stanzetta così E dall'altra parte la stessa cosa perché qui ci metterò le fornaci Ok E dall'altra parte ci metterò le ceste Ok E il sopra lo lasciamo così? No il sopra puoi sistemarlo pure Fanno sempre tutto questo stile qua che è bellissimo Ah sì così? Eh mi porterà via un po' di tempo però Eh vabbè dai Per mille per mille lo possiamo fare ragazzi Eh cavolo per mille Va bene allora fai una cosa Eh dimmi Ovviamente per queste cose qui serve il secondo piano Con le ladder che salgono Secondo piano? Eh certo Ma tu stai scherzando No tu stai scherzando Dai va bene vai a registrarla Allora fai una cosa Fammi anche da questo lato la stessa cosa E poi io dopo inizio i lavori va bene? Va bene a dopo Va bene a dopo dai ciao Marci E guardate che modifiche mi ha fatto Marci alla sua casa ragazzi Vuole un tetto spiovente È un po' difficile modificare una casa in questo modo Soprattutto partendo da questa base Perché il tetto va appunto verso l'alto E devo capire come strutturarla Allora facciamo una cosa Andiamo innanzitutto a comprare i materiali sia da Nat Che anche da Marci dopo Quindi da Nat dovrebbero sicuramente comprare del legno Quindi sfruttiamo tutti quanti questi tre che ho qua da parte Per comprare un po' di stack di legna da Nat Grazie Nat Che sarà sicuramente da qualche parte Perché ho visto prima che era nel server Quindi non so Dove si è cacciato Nat? Ok Non lo so Vabbè comunque ragazzi Ho fatto anche delle piccole modifiche alle panchine Come notate ho messo degli slab così con le scale Così poi i nostri amici NPC si potranno anche sedere in giro per la città Compro anche qualcosina nel negozio di Marci Quindi credo La pioggia no sicuramente Credo di comprare della Cob No, della Cobblest Sì, della Cobblest non mi serve Quanto costa? 10 pezzi 40 Allora facciamo così Compriamo Usiamo 30 pezzi qua E Praticamente sono 30 euro Non 30 pezzi Sfruttiamoli e compriamoli E ci compriamo un pochino di roba Poi dopo Modificherò tutte quante le cose che voglio comprare Però ora c'è da lavorare alla casa di Marci Mi manca solo da ricopiare ragazzi questo lato qua Guardate come è strutturato Ora vi faccio vedere di per sé la facciata normale Ma devo ricordarmi che qua in mezzo i tre sono verso l'alto Queste qua sono verso il basso colonna e tutto quanto Ok, verso il basso 2, 3, 2 Ok, ricordiamoci ragazzi mi raccomando Comunque Questo sarà come sarà strutturata la facciata principale Dovrò soltanto fare poi il tetto Che è spiovente verso l'alto con il legno Lo farò però non con la Cobblest Perché sembra un po' bruttino E poi ho fatto questo motivetto qua davanti E metterò il vetro un po' ovunque Visto che Marci si era lamentato che la sua casa era buia Senza vetro e tutto quanto il resto Nello scorso video in cui le ho fatto la sua casa Oggi lo riempirò di vetro ragazzi Quindi ora facciamo da questo lato la facciata che ci mancava Quindi se non sbaglio era così Così No, sto girando tutto quanto Ok, calma, con calma Marco Calma perché qua bisogna fare le cose fatte bene Qua tiriamo dritti in questo modo Poi era 1, 2, 3 1, 2 Poi 1, 2 E poi ragazzi ditemi anche voi Se quando costruite in Minecraft Contate come me Che conta praticamente lentissimo Io conto lentissimo quando costruisco Perché mi concentro veramente tanto Poi Dovevo riempire qua di scale Quindi qua mettiamo delle scale Perché poi dobbiamo salire sul secondo piano E anche da questo lato mi sa che non le ho messe Quindi saliamo da questo piano Mi manca una scala Ma dai non ho parole ragazzi Ma che sfortuna Quanti stick ho? Devo craftarmi altri stick E vabbè E craftiamoci altri stick Cosa ci possiamo fare? Qua Facciamoci altri stick 34 stick Credo che vanno più che bene Ma ci servirà soltanto una ladder Ma Minecraft Quando craftiamo ce ne da 3 Quindi Ce ne avanzeranno assolutamente 2 Vabbè Va bene comunque ne avanziamo 2 Fa niente Ne mettiamo una qua E Ah no anche di qua era da fare Non mi avanza niente ragazzi Ma io sbaglio anche a fare i conti Quando costruisco Ecco perché magari Vedete che taglio magari tanto Quando costruisco Perché ogni tanto mi sbaglio a fare i conti Torno Faccio Ricostruisco Sono un po' sbadato alcune volte Qua E dovrebbe essere giusto Non mi avanza nessuna scala ragazzi Allora Qua tutto quanto a posto Perfetto Dovrei fare La parte sopra Mi manca solo l'ultima facciata Per mettere il vetro Quindi piazziamo tutto quanto Il vetro E viene fuori Comunque bello A livello di estetica ragazzi Perché Da un bel ingresso Un bel impatto al vetro Ora La cosa che mi preoccupa di più Il tetto ragazzi Quindi dovrò mettermi qua Studiare un modo Per fare un tetto carino Mi sono craftato comunque Delle scale di cobblestone Nel caso le volessi utilizzare E questo diventerà Un grandissimo Bel problema Inizio a lavorarci Perché è meglio E con questa mucca qua dietro Che fa un rumore incredibile Non ho ancora capito Se è una mucca Un toro Ma secondo me è un toro Poi ditemelo Questi nei commenti Che metto al cuore A chi me lo dice ragazzi Però Ho finito La casa di Marci Ed è qualcosa di bellissimo Posso soltanto dirvi Che il tetto Della casa che gli ho fatto È secondo me Uno dei tetti più belli Che io abbia mai costruito Siamo pronti? 3 2 1 Aspettate un attimo Che salgo qua sopra Ed eccola qui ragazzi È incredibilmente bella Come notate Non ho fatto tantissimi dettagli All'esterno Solitamente metto Tante trapdoor Tanti pulsanti Anzi là Me ne sono dimenticato uno Facciamo una cosa Già che ci siamo Ce lo craftiamo Utilizziamo un po' Di terriccio Che c'è rimasto Quindi saliamo qua sopra Smontiamoli un pochino Ancora tutta quanta Questa zona Visto che già che ci siamo Visto che ho costruito Tutto quanto Per l'ennesima volta Posso smontare Quanto mi pare Piace Mi sembra giusto Comunque ragazzi Secondo me il tetto Di questa casa È assolutamente bello Guardate qua ragazzi È tondeggiante Si chiude verso il centro Perché al centro Ho comunque voluto Tenere una colonna Della vecchia casa Che avevo fatto a Marci Come ho tenuto La facciata principale Ho modificato comunque Molto le facciate Come vedete Sono veramente bellissime Con un sacco di vetro E all'interno È rimasta ancora Un po' di neve Sì lo so Dovrei togliere Un po' di neve Marci mi ha chiesto Di fare l'altezza 4 Non 3 Tecnicamente Io l'ho fatta Altezza tantissimo Neanche 4 Ancora di più Poi non so se Intendesse tutta quanta La casa Perché sarebbe stato Un problema Alzare il livello Della casa Perché se no Mi avrebbe portato via Ancora più ore Di costruzione Rispetto a quello Che ci ho messo Comunque all'interno Ragazzi Se noi proviamo a entrare Tecnicamente Qua ci sono 4 salite Lui qua può viazzare le ceste Ma può anche farlo Qua sopra Perché qua c'è Un spiazzo Incredibile Gli ho lasciato qua Il letto È comunque fatta Veramente Molto ma molto bene Secondo me Una cosa che mi piace un sacco Sono queste glow store Che scendono qua Sono veramente Molto ma molto Particolari e belle Ragazzi Secondo me Comunque Di qua si esce Lui sistemerà tutte quante Le sue ceste È mezzogiorno L'ora di pausa Ma ragazzi A me questa casa qui piace Veramente Ma veramente Tanto Ditemi voi ragazzi Quanto è bella Da 1 a 10 La casa di Marci Nuova di pacca Che le ho fatto Che metto in cuore Tutti quanti i commenti Qua sotto in descrizione E superiamo i 7000 mi piace Per questo nuovo video La vita in città E ragazzi Mi raccomando Scegliete Uno dei video Qua davanti Per il mio canale Mi raccomando Commentate ragazzi Che è molto importante Che lascio un cuore A tutti quanti voi E se siete nuovi E ancora non siete iscritti Al mio canale Iscrivetevi Questa sera Lo so qua sotto E lasciate un bel mi piace Da Marche è tutto ragazzi Ciao ciao